e benvenuti a questo nuovo episodio di sonic advance lasciate like condividete e commentate raga riguardo il gameplay e allora fanno dire una cosa ok ci sono questi qua da fare voglio un attimo ricordarvi bene allora prima zona completata seconda zona completata e adesso nella terza zona il casino ragazzi siete fortunati e si mora chissà dove faranno i nuovi giochi se lo fanno è di sonic e mario giochi olimpici perché l'hanno fatto allora vabbè olimpiadi poi hanno fatto i poli invernali a vancouver poi l'hanno fatto a londra giusto poi a tokyo chissà dove potrebbero farvi i giochi questa volta se ci sarà il nostro gioco e finora ne hanno fatti quattro se non ha contato male ragazzi nei commenti secondo voi se fanno un nuovo gioco di mario e sony che giochi olimpici dove li faranno sinceramente io non ho un'idea dove potrebbero farli questo nuovo gioco e poi il bello dell'ultimo gioco che hanno fatto quello quello di tokyo e che c'era una bella modalità storia ma veramente seria questa volta di come in di come negli altri giochi quelli più avanti di sonic giochi olimpici il primo perché la storia non c'è proprio ma quel più avanti sì c'è una storia seria nell'ultimo ovvero quello di mario e sony che vengono in prigio la imprigionati da dottor eggman e bowser e poi si finiscono anche loro per errore vabbè ti sai i cattivi sono un po stupidi aia ok insomma lì c'è una bella storia e c'è anche il doppiaggio e questo prende quel gioco dei giochi olimpici il migliore dei ultimi anche se devo dire che c'è una moneta storia in effetti sui giochi olimpici però con il verna con l'invernale ma sulla versione di s che io una volta ho giocato ah sono arrivato a bowser e sia bowser eggman sì e l'azio messo pochissimo vabbè allora questa serie durerà veramente poco perché quello sattito alla bomba e a lui che passa oh non ci vuole niente abbatterlo finché non va veloce no ma casi l'ho beccato l'ho beccato ma io l'aspetto qua sono fermo non faccio niente ma cosa ah se l'ho beccato comunque no eh peccato pensavo di battere loro quasi subito e invece mi ha sconfitto prima sconfitta contro eggman raga della serie con sonic vabbè non sarebbe un bel gameplay se il cattivo non vincesse almeno una volta giusto? ma speriamo che sia solo questa ah 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 dai dai ah 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 sconfitto hai avuto 8 vittoria e adesso è sconfitto quindi via e terza zona completata raga in 6 minuti e 8 spieti vabbè ragazzi vediamo alla quarta zona